Musica Benvenuti a tutti, è un piacere incontrarsi in questo bellissimo teatro Questo luogo non è stato chiuso a scoprire, perché vogliamo mettere in fronte, dare un progettore a quello che fa l'essenza del gruppo LVMH, le uniche saboteche che sono rappresentate a traverso più di 280 metri. Musica C'è oggi una grande sfida che è quella di avvicinare le nuove generazioni ai nostri magnifici mestieri. C'è una percezione che si tratta di lavori un po' manuali e ripetitivi, si tratta invece di lavori dove c'è molto valore aggiunto, bisogna conoscere a fondo delle materie prime che sono sempre pregiate e qualche volta anche preziose. Firenze è una città per natura rivolta alla formazione e uno dei miei impegni maggiori è proprio quello di renderla sempre più capitale del sapere e del saper fare. Grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.